Presentata questa mattina presso il Comune di Eboli dall'assegna letteraria Eboli Legge nell'ambito della terza annualità del progetto di promozione della lettura sul territorio cittadino. L'evento, composto da sei appuntamenti, inizierà venerdì 6 marzo e si concluderà martedì 28 aprile. È un appuntamento al quale teniamo molto come amministrazione, è cresciuto nel corso di questi anni. Quest'anno in particolare il percorso di incontro con gli scrittori si lega anche alla cultura del sociale. Un appuntamento conclusivo che vedrà un protagonista del panorama culturale letterario italiano internazionale come Maurizio De Giovanni che presenterà al Cinema Teatro Italia un reading spettacolo e che lega questo suo intervento nella città di Eboli ad un progetto di grande importanza e che è sostenuto dall'intera amministrazione e dal sindaco Cariello che è appunto il Forno di Vincenzo. Durante la serata la cultura letteraria si unisce alla cultura del sociale e sarà possibile sostenere con una campagna crowdfunding appunto quello che è un progetto di vita indipendente legato al Forno di Vincenzo. Tanti altri autori ci saranno a partire dal 6 marzo con Marco Marsullo fino appunto al 28 aprile perché noi crediamo davvero e fortemente che una città che legge è una città che cresce. Una rassegna che cresce e che mette sempre di più a centro la crescita culturale e sociale della nostra comunità. Consentitemi di ringraziare l'assessore Lamonica che ha lavorato intensamente coadiuvato e affiancato dalla giornalista Maria Vita della Monica e dall'editore Giuseppe Avigliano che rappresentano poi i tre che hanno creduto fortemente insieme alla nostra amministrazione comunale l'intera maggioranza ad un percorso importante di crescita e di dare sempre di più spessore anche perché quest'anno la terza edizione di Ebro di Legge punta molto sulla parte della promozione sociale. Presenteremo dei progetti innovativi, sperimentali tra i pochi che sicuramente ci sono a livello nazionale e questo mette ancora di più a centro come la cultura e contemporaneamente quindi la promozione sociale è un tredognono sulla quale abbiamo investito e su quale crediamo fortemente oltre poi a valorizzare i luoghi storici della nostra lettura a partire dalla nostra biblioteca comunale e poi chiudere in bellezza con un'importante giornata nella presentazione e nella raccolta di fondi del Forno di Vincenzo che si farà il 28 aprile all'interno del Cinema Teatro Italia.